Buongiorno da Torino Cronaca, ci troviamo nel quartiere San Salvario per la precisione in Vianizza, quella che vedete alle mie spalle è il palazzo dove abita il 41enne tunisino arrestato ieri dalla polizia dopo che ha urlato all'Akbar nei confronti degli agenti anche sputato contro i poliziotti, ora andremo in questo palazzo e vedremo se qualcuno ci darà informazioni da quanto ci hanno detto nel palazzo pare che il 41enne tunisino abitasse proprio lì in quella finestra che vedete alle mie spalle e adesso saliamo e andiamo a vedere se in casa c'è qualcuno Questo è un palazzo in Vianizza, molto vecchio, siamo quasi alle spalle della stazione di Porta Nuova. Conosce Montasser, il signore di 41 anni che ieri è stato arrestato? Mi hanno detto che abita qua? Sì, non abita qua io. Non lo so, perché appena arrivato al Marocco ho sentito le agenti. Ieri c'era la polizia qui? Sì, la polizia è venuta al negozio. Ah, al negozio? Sì. Lei ha un negozio? Sì. E lo conosce questo signore? Non lo conosco io, ho sentito le agenti la sera, non lo so chi è, perché io ho affittato a una persona. Ha affittato a lui qui? Sì, non è lui, ha affittato l'altra persona. Ho capito. E gli agenti sono venuti qui, non hanno trovato niente? No, niente, nessuno. Hanno anche prequisito casa sua? No, io ho affittato, io ho col contratto tutti. Ho capito. È irregolare. Quindi lei, questa persona, non la conosce? Lo conosco qua fuori, perché ho sentito loro, però io non ho contato. Ma lui non lo conosce? Il signore che ieri è stato arrestato? No, ho solo sentito. Ha solo sentito? Sì, scusami.